Sono stati messi in fuga dalle sirene dei carabinieri di Pescara allertati dal sistema d'allarme i malviventi che nella notte hanno sfondato con un'auto la saracinesca del centro commerciale Mall di Villanova di Cepagatti per rubarne il bancomat installato nei corridoi. La scena che si è presentata ai militari una volta entrati nel centro commerciale è stata simile a quella di un film d'azione con le funi legate all'auto, una Fiat Fiorino rubata a Chieti usata per sradicare il bancomat dal muro in modo da caricarlo e poi aprirlo con calma. I piani dei malviventi però sono stati cambiati dalla sirena d'allarme e dall'arrivo dei carabinieri che li hanno messi in fuga. Ora sono in corso le indagini per accertare l'identità dei malviventi.